Il primo maggio celebrato in diverse piazze pugliesi, dignità, lavoro, salute, sicurezza, sviluppo e occupazione, questi alcuni dei temi trattati. Droga, armi e immobili abusivi scoperti lungo la statale Sette Terre a Lecce, mentre a San Pietro Vernotico quarto attentato e danni di un negozio. Dino e Marina hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio alla chiesa del Sacro Cuore Astante. A noi hanno svelato il loro segreto e ci hanno detto che c'è una cosa che fanno ogni giorno prima di andare a dormire. Buon primo maggio, lo avete sentito nei titoli, il lavoro nel sud Italia ma anche il ricatto occupazionale e tanto altro. Queste le riflessioni del direttore Gianni Sebastio. Oggi nel giorno della festa dei lavoratori vogliamo ricordare coloro che per lavorare hanno perso la vita, una vera e propria piaga sociale. È necessario adottare leggi e regolamenti più rigorosi per proteggere i lavoratori e garantire il rispetto dei diritti fondamentali. I datori di lavoro devono investire nella sicurezza sul lavoro e creare un ambiente lavorativo che promuove il benessere dei dipendenti sindacati devono continuare a difendere i diritti degli stessi lavoratori e a lottare contro l'ingiustizia e lo sfruttamento. Celebriamo il primo maggio e onoriamo i contributi dei lavoratori di tutto il mondo. Dobbiamo anche rinnovare però il nostro impegno per combattere questa piaga. Nessun lavoratore dovrebbe mettere a rischio la propria vita per svolgere il proprio lavoro e dobbiamo fare il possibile per garantire che ognuno di essi possa tornare a casa sano e salvo a fine giornata. Il primo maggio non è soltanto una festa ma anche un momento per rinnovare l'impegno verso una società più giusta ed equa. È un appello a tutte le parti interessate, dalle istituzioni ai sindacati, dalle imprese alla società civile per lavorare insieme verso un futuro in cui il lavoro dignitoso e l'ambiente sano non siano più in conflitto ma si sostengano reciprocamente e soprattutto che finisca una volta per tutte quello che da più parti viene indicato come il ricatto occupazionale in relazione alla tutela dell'ambiente e il diritto al lavoro. Un'Europa di pace ma anche di lavoro e giustizia a associare questi temi trattati a Trani le conclusioni affidate al Gigi Abucci, segretaria generale della CGL Puglia. Pace, lavoro e giustizia sociale sono questi temi al centro della festa dei lavoratori organizzata da CGL, Cisle, Willa, Trani. Musica e parole è il binomio messo in campo dei sindacati, saliti sul palco per denunciare i tanti problemi del mondo del lavoro ancora presenti in Italia e sul nostro territorio, lotta al precariato e agli incidenti, alcuni anche mortali in primis che ancora troppo spesso si registrano. Ce l'ha ricordato ieri il presidente Sergio Mattarella richiamando appunto i tantissimi incidenti mortali, i tantissimi infortuni che ci sono stati in questo anno terribile. Per cui questo primo maggio è un primo maggio di festa ma è un primo maggio di lotta e di mobilitazione. Importante è un impegno collettivo da parte delle forze sindacali ma anche delle istituzioni per promuovere ad ogni livello un rispetto dei diritti dei lavoratori e soprattutto una lotta alla precarietà. È un tema fondamentale perché dove c'è precarietà c'è insicurezza e dove c'è insicurezza c'è degrado dei diritti dei lavoratori. Non è possibile, lo stiamo dicendo in tutte le salse, che una persona vada a lavorare e non rientri più. Quando qualcuno va a manomettere i macchinari per rendere più produttività sul posto di lavoro e succede l'infortunio è un omicidio per noi, senza se e senza ma. La precarietà è anche subire un contratto atipico di due ore al giorno, di quattro ore al giorno nonostante il lavoro sia di otto o dieci ore al giorno. Vedo gli operai rassegnati a questo stile e a questo modo operandi delle aziende. Da Trani a Taranto, velocemente, con il segretario provinciale della FIOMO CGL, Giuseppe Romano. Oggi non è solo la festa dei lavoratori, è anche una festa che ci deve vedere celebrare il buon lavoro. Per buon lavoro noi intendiamo no alla precarietà e sicurezza sul posto di lavoro. Sono due battaglie che bisogna fare assolutamente perché bisogna migliorare lo status dei lavoratori. Quindi dobbiamo necessariamente andare in questa direzione. Noi come organizzazione sindacale stiamo anche proponendo una serie di referendum proprio per questo, cioè per abbattere la precarietà e per responsabilizzare gli appalti a cascata, cioè la committente in un appalto a cascata. Naturalmente poi c'è l'altra questione che è quella che da troppi anni preoccupa i lavoratori, che è quella dell'ex silva. Purtroppo diciamo che anche l'ultimo vertice che avete avuto a Roma proprio l'altro giorno ha suscitato parecchie perplessità. Beh sì, parecchie perplessità perché l'ennesimo gioco di Melina, usando una metafora calcistica, non si affronta nel merito il piano industriale e il piano finanziario. È evidente che si è alla ricerca di risorse per cercare di resistere, ma non è ben chiaro in che direzione andiamo. Si preannunciano forni elettrici fra due anni, non si capisce con quale alimentazione saranno, non si capisce che rigatura è occupazionale, ma soprattutto non si capisce che tipo di sviluppo in prospettiva si avrà per la siderurgia, per l'attenuta dell'occupazione e dell'ambiente. È tutto ancora molto nebbioso ed è evidente che stiamo prendendo tempo e questo è francamente inaccettabile ancora oggi. E festa dei lavoratori speciale davanti l'ospedale oncologico San Giuseppe Moscati. Quanto è importante oggi festeggiare il primo maggio? È importante perché secondo il nostro punto di vista c'è bisogno di primo maggio, il primo maggio per noi è 365 giorni l'anno. E primo maggio ogni giorno, il lavoro va celebrato, onorato, rispettato ogni giorno ed a Taranto le principali sigle sindacali hanno scelto un luogo speciale per ricordarlo, l'ospedale oncologico San Giuseppe Moscati. Facciamo in un luogo simbolo che è quello del Moscati di Taranto, che è un po' l'emblema di quelli che sono i problemi della sanità pubblica, dove ci sono operatrici, operatori medici, sanitari che con una grande fatica, con un grande sacrificio cercano di mantenere alto il livello della qualità del servizio sanitario. Abbiamo scelto questo luogo, cioè un ospedale, un luogo di cura, di salute, perché intendiamo mettere insieme il diritto alla salute con il diritto al lavoro. Il nostro pensiero va alla vita delle persone, alla cura della vita, della dignità delle persone. E quindi la sanità diventa uno dei temi cruciali della salute, della vita, della qualità della vita. Bisogna investire tantissimo sulla sanità. Voce e musica per celebrare il primo maggio. Il pensiero anche ai morti sul lavoro e ai giovani che fuggono per trovarlo. Oggi i ragazzi fuggono, fuggono da Taranto e fuggono dal meridione d'Italia in modo particolare. Ecco, noi vogliamo discutere di come teniamo in piedi queste questioni, di come ci confrontiamo su quello che deve ritornare ad essere un lavoro sano, un lavoro in cui non si può morire. Ma oggi non tutti fanno festa, il nostro servizio da Lecce. Il primo maggio ovviamente è la festa dei lavoratori e molti tra questi possono sfruttare il meteo clemente per godersi una giornata di svago con famiglie e amici. Per altri invece il primo maggio è un giorno lavorativo al pari degli altri, tra chi lo affronta con entusiasmo e chi con un pizzico di rassegnazione. Sempre dobbiamo lavorare per andare avanti. Sicuramente il primo è significato come festa dei lavoratori nel primo maggio. Come procedono? È ancora il prezzo, più tardi si vedrà. Penso che la gente uscirà, non andrà a mare, ma si mantiene qua sulla zona di Lecce. Per noi purtroppo con la crisi in corso siamo costretti a lavorare anche la domenica. Lo facciamo normalmente tutte le domeniche, ma questa non è di meno perché dobbiamo contribuire a portare un pezzo di pane a casa. Anche se appunto non è domenica ma è mercoledì. Certo, non è domenica, è mercoledì, è vero. Però per noi il primo maggio rappresenta una domenica, un giorno di festa. Festa dei lavoratori, innanzitutto sei felice di lavorare? Sì, sì, io sono felicissima di stare qua e accogliere i clienti, i turisti, soprattutto nei giorni di festa in cui Lecce si popola e passare il tempo con le mie colleghe. C'è chi poi lavora utilizzando Lecce come set cinematografico e chi la prende con ironia. Oggi è maggio 1! E Megamark celebra i 50 anni di attività e gli 80 anni del Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, fondatore dell'impresa. Saracinesca e dei supermercati di proprietà del gruppo Megamark abbassate nel giorno della festa del lavoro. È una super mega festa per celebrare in Fiera delle Vante a Bari con i dipendenti e le loro famiglie i 50 anni di attività e gli 80 del fondatore, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico. Storia di una tradizione consolidata, ma anche di un'occasione per rievocare la nascita dell'impresa nel 1974. I primi supermercati aperti a Barlette e Andrea, quindi l'avvio negli anni 80 della rete in franchising e l'espansione nel sud Italia del gruppo, che oggi si avvale del lavoro di oltre 5.500 persone. I presenti alla festa sono invece circa 8.000 che si sono potuti avventurare tra street food e spettacoli. Un doveroso riconoscimento del grande apporto che i lavoratori, io li chiamo collaboratori, non lavoratori, che hanno dato, continuano a dare a questo gruppo. Un gruppo che cresce e si sviluppa. Siamo oramai nella quinta, 5 regioni del sud, siamo leader in assoluto come società capitale privato, alle casse. Stiamo già andando speditamente verso i 3 milioni, 3 milioni di euro. È un grande, grande risultato. Ringrazio a chi ha dato il suo contributo piccolo o grande a questo meraviglioso percorso che la vita mi sta riservando. È un primo maggio che ci proietta verso quali prospettive nel futuro? Ma è una prospettiva di dare maggiore sensibilità, riconoscimento, maggiore spinta emotiva alle persone, alla gente. Non si fa business se non c'è innamoramento della persona che lavora verso l'azienda. È un primo maggio celebrato anche a Francavilla Fontana. Prima la deposizione di una corona dall'oro davanti al monumento dedicato ai lavoratori, poi il tavolo, il confronto con i rappresentanti provinciali di CGL e Wille Cisla, accolti a Castello Imperiali dal sindaco Antonello Denuzzo. Infine la premiazione di chi scelto dai sindacati si è distinto nella vita e nel lavoro, e di lavoro in tutte le sue accezioni si è parlato a Francavilla Fontana nel classico evento del primo maggio brindisino. Si è parlato pure di guerra e pace, di una festa importante, eppure mancata, almeno in parte. Di ricatto occupazionale e di braccio di ferro infinito tra industria e lavoro si è parlato di morti bianche e insopportabili, quelle del mai più che suona anche oggi, come una terribile promessa mancata. Anche oggi rifletteremo su questi temi, partendo da un'analisi, anche da un'elaborazione politica, su quello che c'è bisogno per il nostro territorio, dobbiamo dare futuro ai giovani, viviamo una fase di desertificazione, sempre più gente va via, c'è bassa natalità, quindi c'è bisogno veramente che la politica, le istituzioni e anche noi come organizzazioni sindacali facciamo una via. Con questo primo maggio vogliamo accendere i fari su quelle che sono le condizioni nel mondo del lavoro che sono ancora esistenti, molta povertà, precariato diffuso, mancanza di contrattazione perché ancora siamo in attesa del rinnovo dei contratti nazionali. Siamo stati i primi a denunciare zero morti sul lavoro, pertanto è una nostra battaglia, è una nostra priorità che portiamo avanti da tanto tempo perché non è possibile ancora nel 2024 morire per lavorare. Il Presidente della Regione Puglia non ha mai pronunciato la frase inopportuno che io venga in audizione, la frase attribuita tra virgolette al Presidente della Regione Puglia inopportuno che io non venga in Commissione Antimafia, non è mai stata pronunciata come dimostrato dalla lettera inviata alla Commissione il 24 aprile, resa pubblica per ripristinare la verità. È falsa dunque la ricostruzione fatta ieri dall'Onorevole Decorato riportato da alcune agenzie di stampa. Ed ora cambiamo argomento la politica. Salvini ha presentato la candidatura all'elezione europea del generale Vannacci. Matteo Salvini ha il Tempio di Adriano presente al suo libro, si concede a baci e abbracci e firma le copie dei presenti in sala. Preferisce non parlare con i giornalisti, lo fa dal palco parlando di un'Europa nuova. Poi si concentra sulla candidatura del capolista della Lega Roberto Vannacci. Non ho avuto paura di nominare il generale addetto perché voglio garantire in Europa un futuro libero e pacifico. Poi è la volta del candidato indipendente che parla di cultura woke e cancel culture che vogliono farci vergognare di quello che hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri, dice il generale. Io vorrei un'Europa in cui i nostri figli non debbano vergognarsi della loro storia e della loro cultura. Ma l'attenzione è solo sulle parole pronunciate durante l'intervista dei giorni scorsi, ovvero le classi separate per i disabili. Parole che per Salvini sono state fraintese. Da come c'era poca partecipazione? Avevo lanciata prestazione da quanta gente c'era. Però la Stato Maggiore della Lega non c'era, Giorgetti per esempio lo ha. Io immagino che avranno avuto molte cose da fare. Generale, non faccia però come i politici vecchi che dicono sono stati fraintesi. Ha detto una stupidaggine sui disabili. Ma devi imparare a leggere e a capire. A criticarlo non è stata solo l'opposizione ma anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti assente all'incontro. Ma della Lega lo difendono. Ha chiarito la sua posizione. Quanto ho fatto a favore dell'inclusione degli studenti disabili. Credo che nessun altro abbia fatto così tanto come quello che abbiamo fatto noi. Quindi Vannacci ha detto una stupidaggine, lo possiamo dire. Le parole di Vannacci nel corpo dell'articolo dicevano cose ben diverse rispetto a quello che c'era scritto nel titolo. E io credo che la Lega sia l'esempio di un partito che ha dato voce, che ha dato dignità a tanti studenti, a tanti ragazzi e a tanti giovani disabili. Ed ora le comunali di Bari. Il candidato del centro-destra ha inaugurato in centro a Bari il suo comitato elettorale. Il centro-destra rappresenta una nuova gestione e quindi una nuova stagione. Una stagione che si auspica sia di cambiamenti. Così Fabio Romito inaugura la nuova sede del suo comitato elettorale in vista delle elezioni comunali di Bari. Presenti i vari big come Roberto Marti, Filippo Melchiorre ed anche il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. E non mancano anche stoccate al centro-sinistra. Lo stesso Romito afferma, voglio dire a Nichi Vendola, che in Puglia Bari di grottesco c'è solo il teatrino stomachevole che il centro-sinistra ha messo in piedi negli ultimi tre mesi. È una città che vuole tornare a pensare in grande. Lo riscontro ovunque, nei mercati, per strada, l'ho detto prima, negli incontri che stiamo tenendo quotidianamente con la città di Bari. I baresi sono abituati a pensare in grande e questi ultimi tre mesi inevitabilmente hanno un po' affossato il morale della nostra città. Noi abbiamo il dovere di riportarlo in alto. Come coalizione siamo assolutamente pronti. Oggi hanno aderito al nostro progetto politico anche Mario Conca, che ringrazio, il Partito Liberale Italiano. È una squadra che metro dopo metro sta diventando sempre più importante, evidentemente perché la proposta politica convince, e non convince soltanto i partiti classici di centro-destra, ma anche tante espressioni di civismo. Ed ora la cronaca. Un uomo è morto in un incidente stradale ieri sera nel Salento. Un uomo ha perso la vita nel tardo pomeriggio di martedì a Soleto, in provincia di Lecce. La vittima del sinistro è venuto intorno alle ore 18 in contrada Murica, alla periferia del paese Salentino, e Fabio Coluccia, un 37enne del posto dipendente dell'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana per conto del comune di Galatina. L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto, quando per causa ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un muretto a secco adiacente all'arteria stradale. In seguito all'impatto, il corpo del 37enne è sbalzato dall'auto ormai privo di vita. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri del comando Compagnia di Maglie per i rilievi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al termine degli accertamenti, la salma della vittima è stata restituita ai familiari su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce. Donatina Buffelli E ci spostiamo a Lecce, droghe e armi nel Campo Romo. Situazioni di illegalità diffusa, tra cui la coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, l'abusivismo commerciale ed edilizio, il riciclaggio di autovetture oggetto di furto, sono emerse nel corso dell'operazione congiunta tra carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, condotta nella mattinata di martedì presso il Campo Rom Panareo, situato lungo la strada statale Sette Terra, Lecce, dove risiedono numerosi nuclei familiari di prevalente origine slava. Nell'ambito dell'attività operativa, a cui hanno preso parte anche i vigili del fuoco, la polizia locale e l'ufficio servizi sociali del comune di Lecce, sono state controllate 30 autovetture, due delle quali sottoposte a fermo e una a confisca, e identificate 35 persone, due già sottoposte a misure restrittive. Un soggetto minore d'età a seguito di inseguimento da parte delle forze dell'ordine è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, guida senza patente, con velocità non commisurata e per non essersi fermato all'alt. Quasi 5 kg di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina, sono stati sequestrati nel corso delle perquisizioni, durante le quali è stata rinvenuta una vera e propria piantagione di circa 500 piante di marijuana, piantumate all'interno di sacchi di terriccio e, presso un'abitazione, una beretta 92S munita di caricatore rifornito. Nel corso dei rilievi di competenze eseguiti dal personale della Polizia Statale e dell'Ufficio Tecnico del comune di Lecce, quattro fabbricati sono stati segnalati in quanto privi del legittimo titolo abitativo, mentre sei manufatti in muratura e lamiera risultavano totalmente abusivi. La Polizia Stradale, invece, ha individuato e sequestrato due strutture in lamiera di circa 25 metri quadri, prive di autorizzazione adibita all'esercizio abusivo dell'attività di riparazione di veicoli. È stata infine rilevata la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati sia all'interno che all'esterno del campo, per i quali si è provveduto a richiedere l'intervento dei competenti uffici comunali. E nuovo attentato a San Pietro Vernotico. La guerra personale, che qualcuno sta combattendo contro la famiglia Marangio, proprietaria di una salumeria a San Pietro Vernotico, in via Carrozzo, è ripresa in tutta la sua folle violenza. Un ordigno di fabbricazione artigianale e di alto potenziale è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca del negozio, distruggendo gli infissi e una parte della muratura. È accaduto a luna di notte tra martedì e mercoledì, quando le strade del paese, vista la giornata prefestiva, erano piene di giovani. Si tratta del quarto attentato subito dai proprietari della salumeria in un anno e mezzo. L'ultimo era avvenuto il 6 febbraio dello scorso anno, quando quella stessa saracinesca era stata acrivellata di colpi di pistola. Pochi giorni prima l'ingresso era stato incendiato, mentre il 17 ottobre 2022 c'era stato un attentato esplosivo, proprio come quello di martedì notte. Nei giorni successivi, all'ultimo episodio, i carabinieri avevano arrestato un ragazzo di 20 anni che abita poco lontano dal negozio e che fu trovato in possesso di due candelotti con miccia. Poi, per poco più di un anno, sembrava che la scia intimidatoria si fosse interrotta. Le indagini compiute dai carabinieri, visto che la famiglia Marangio è al di sopra di qualsiasi sospetto e che viene escluso anche il racket delle estorsioni, seguono la pista della vita privata. Proprio qualche giorno fa nel Comune era stata presentata l'iniziativa della Corsa della Legalità organizzata a San Pietro Vernotico dall'Associazione Nazionale Magistrati. Condannati due medici a Trani Rifiuto ed omissione di atti d'ufficio è il capo d'accusa per cui sono stati condannati ad un anno di reclusione, i due medici Rita Capraro e Paolo Saracino, all'epoca dei fatti rispettivamente medico di turno al pronto soccorso di Trani e collega della Guardia Medica. Finiti a processo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonia Abbatangelo, la 41enne tranese deceduta in seguito alle complicanze del Covid il 19 novembre del 2020 all'ospedale di Miccoli di Barletta. I medici processati con rito abbreviato sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto, con formula dubitativa. È stata ossia riscontrata la contraddittorietà tra le parti, un caso in cui, lo ricordiamo, inizialmente era stata chiesta l'archiviazione. È stato disposto inoltre il risarcimento del danno nei confronti dei familiari costituiti parte civile con l'avvocato Giorgia Di Savino e le spese processuali, 90 giorni per le motivazioni. La donna soffriva di problemi di obesità il 12 novembre 2020, in piena pandemia, a causa dell'indisponibilità del servizio del 118. La Abbatangelo venne accompagnata al punto di primo intervento di Trani, ma era già in condizioni critiche. Secondo quanto contestato dall'accusa, il medico di turno, senza visitarla, le avrebbe detto di rivolgersi alla Guardia Medica. Qui, a sua volta, le sarebbe stato detto di tornare al pronto soccorso. A quel punto, la 41enne è stata costretta a far rientro nella propria abitazione, senza aver ricevuto una diagnosi e soprattutto senza che nessuno l'avesse sottoposta ad un tampone di verifica. Gli inquirenti ritengono che i medici abbiano rifiutato indebitamente la presa in carico della paziente, cosa che doveva essere fatta senza ritardo. E consegnate a Bari le stelle al merito del lavoro. Primo maggio è giornata di premiazioni. Al Teatro Petruzzelli di Bari, protagonisti, lavoratori e lavoratrici che si sono distinti per singolari meriti nel corso della loro carriera. 26 quelli originali della provincia di Bari, provenienti da diversi campi occupazionali. Alla cerimonia hanno preso parte inoltre le autorità locali e sindacali del territorio. È importante, in questo momento storico, come lo è sempre stato poi fondamentalmente, ricordare la necessità dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con pieni diritti, con pieni doveri e rispettando appieno anche quelle che sono diciamo, quella che è la dignità, la piena dignità dei giovani. La festa di chi il lavoro ha saputo conquistarselo, lo ha utilizzato per il bene della propria famiglia, ma anche delle aziende dove prestano lavoro, per il bene dell'Italia. E quindi oggi premiamo queste persone, ma la festa del lavoro riguarda anche chi il lavoro purtroppo non ce l'ha o ce l'ha precario e ce l'ha in condizioni che non corrispondono alla tutela della dignità di ciascuno come prescrive la Costituzione. Primo maggio che allo stesso tempo propone riflessioni sulle situazioni più critiche nell'area del Barese sono in particolare due i casi monitorati. Uno degli ultimi casi è quello di Bari Blu, ma in questo momento ci arriva anche notizia del fatto che in network nella nostra area metropolitana a Molfetta stanno provando a cambiare il contratto collettivo nazionale di lavoro e il motivo per il quale noi continuiamo ad insistere sul fatto che oggi c'è una necessità urgente di mettere in piedi una legge sulla rappresentanza per abolire i contratti di lavoro pirata e purtroppo il governo con la legge delega su salario e contrattazione va esattamente nella direzione opposta. Agricoltori Pugliesi in assemblea in tutte le province il nostro servizio. Le politiche agricole comunitarie e il controllo sugli animali tropicali e quelli selvatici l'etichettatura con l'origine dei prodotti 80 anni di col diretti ed è ancora mobilitazione su tanti fronti che non trovano risposte da parte dei governi quello regionale nazionale Bruxelles per la tutela dell'agricoltura e le imprese agricole italiane. 80 anni di mobilitazioni 80 anni di battaglie sui campi battaglie per le strade sulle piazze in maniera intelligente in maniera propositiva e ancora oggi quindi noi oggi siamo qui a celebrare uno stato di mobilitazione le imprese ormai sono all'estemo questa geopolitica che sta cambiando sta condizionando i costi di produzione. Non è solo il momento di celebrare la storia dell'associazione ma è anche quello di insistere nel contrasto alle politiche distruttive spiega il direttore di Coldiretti Puglia. Se noi pensiamo che il pomodoro che arriva dalla Cina è sufficiente grazie al codice doganale che oggi esiste in Italia è sufficiente una sola trasformazione per renderlo italiano se noi pensiamo che il grano canadese che è al grifosate che arriva con le barche con le navi a Bari basta trasformarlo in semola e questo diventa semola italiana la dice lunga sulla normativa. migliorare la politica sull'acqua e gestire la fauna selvatica sono oltre 30 milioni di euro i danni nel territorio pugliese a causa della riproduzione fuori controllo dei cinghiali. È opportuno un'azione regionale che faccia riferimento a normativa nazionale di un piano straordinario che la regione deve mettere in campo per il contenimento delle specie selvatiche dall'altra parte le importazioni il Brennero ci ha dato dimostrazione di quello che succede entra di tutto entra il mondo La tutela del Made in Italy e del Made in Puglia passa attraverso la semplificazione della PAC nella sua parte burocratica in modo che vi sia pronto sostegno alle imprese e attraverso l'etichetta trasparente aggiunge in ultimo non per importanza la tutela del nostro oro verde pugliese l'olio Un'etichetta ancora non particolarmente evidente potrebbe come dire confondere i consumatori e ci trasferiamo a Potenza per parlare con il sindaco di Decoro Urbano Ci troviamo nella zona G alle mie spalle c'è un importante sito archeologico quello della Villa Romana di Malvaccaro che abbiamo cercato di rendere più fruibile riqualificando quest'area che era infestata di alberi e di rovi inaccessibili abbiamo creato dei percorsi che si sposano benissimo con l'ambiente naturale che ci circonda utilizzando legno e pietra e abbiamo riqualificato tutta l'area creando anche una bike lane che attraverso un sentiero che in corso di realizzazione proprio dalla zona G e che porterà su via del Gallitello ci permetterà di collegare la Villa Romana di Malvaccaro con il ponte romano il ponte di Santo Ronzo su Basento e con il lago Pantano di Pignola ne approfitto anche per spiegare alla nostra comunità il perché di quella bike lane su via del Gallitello quello che è stata tanto criticata non è una pista ciclabile è una bike lane perché appunto è più piccola è valicabile dalle auto ha il solo scopo di dire agli automobilisti di prestare attenzione perché in quel tratto possono esserci anche dei ciclisti proprio perché intendiamo collegare questo sito archeologico con il ponte sul Basento e quella del Gallitello è un raccordo tra questi due luoghi e lo abbiamo fatto non solo per i potentini e per i lucani ma anche per le decine di migliaia di cicloturisti che ogni anno si riversano nella nostra regione per visitare il nostro fantastico territorio Dino e Marina sposi da 60 anni c'è una cosa che fanno prima di andare a letto scopriamolo insieme tutte le cose hanno un inizio e una fine ma l'amore no l'amore può essere anche senza fine in 60 anni di matrimonio insieme Dino e Marina ne hanno viste tante lui 89 anni ex macchinista delle ferrovie lei invece casalinga da giovane è stata sarta ed eccellente cuoca le chiamano nozze di diamante come la pietra preziosa e più dura al mondo simbolo della resistenza e della tenacia simbolo perfetto dell'amore eterno un sentimento che sfida il tempo e rimane immutato nonostante la vita insieme ai loro figli e ai loro nipoti hanno festeggiato il loro 60esimo anniversario di matrimonio alla chiesa del sacro cuore di Statte ma c'è una cosa che loro fanno ogni giorno prima di andare a letto chiedersi scusa no? dice se ho sbagliato oggi se mi è saltato un po' la brocca ma di solito chi è che chiede scusa? va bene qualche volta l'ho fatto diciamo la verità diciamo la verità chi è stato sempre più accomodante è stato Marina lei quando c'è il cruccio noi come maschiette ma io in particolare sono un po' più dura lei trova sempre il modo di trovare le parole accomodanti cosa possiamo dire noi ai giovani di oggi? di avere pazienza se le piccole avversità ci sono sempre gli alti e bassi durante la giornata la pazienza un po' di buonsenso soprattutto volersi bene questa è la chiave la chiave di tutto abbiamo detto compatimento passare tutto dietro ma la prima cosa più importante amarsi e vi segnaliamo per l'intervista della settimana in onda alle 15.30 sul nostro canale lo speciale Prefetti con il nostro direttore editoriale Massimo Mariani Prefetto di Palermo e Cosima Distani Prefetto di Messina entrambi i tarantini i due protagonisti della puntata speciale d'ora lo sporto Serie B Bari Parma due squadre a caccia dei tre punti non c'è festa dei lavoratori nel campionato di calcio di Serie B che oggi vivrà la sua terza ultima giornata per il Bari sfida quasi impossibile al San Nicola dove arriva la capolista Parma che propone il capologo pugliese potrebbe festeggiare il salto in Serie A alle ore 15 giocano le dirette avversarie degli Emiliani il Como in casa contro il Cittadella e il Venezia sul difficilissimo campo del Catanzaro ai gialloblu potrebbe bastare un pareggio o una vittoria per festeggiare il salto di categoria cosa che il Bari non vuole permettere anche perché i punti sono vitali per la permanenza in Serie B della squadra di Federico Giampaolo che appare sempre più in difficoltà dopo il K.O. per 4 a 1 sul campo del Cosenza ieri c'è stato un colloquio con il primo cittadino del capoluogo Antonio De Caro che ha ribadito la sua vicinanza alla squadra provando a spronarla un colloquio franco e riservato così come si legge dalla stringata nota stampa del sindaco di Bari la squadra dovrà metterci il 110% contro un team che sulla carta appare molto più forte la formazione non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1 che ha affrontato il Cosenza con Pissardo in porta uno tra Dorvale e Puccino a destra Ricci a sinistra Vicari e di Cesare al centro della difesa a Campora in vantaggio sull'Ulic per sostituire lo squalificato benale a centrocampo assieme a Maita e il tridente di trequartisti formato da Callon Sibilli a Ramu dietro l'unica Punta Nasti previsti oltre 16.000 spettatori perché i tifosi almeno loro non mollano mai E in Lecce si prepara alla sfida con i Cagliari che vale una stagione Il presidente dell'Unione Sportiva Lecce Saverio Sicchi Damiani ha voluto mostrare al mondo il restyling che grazie ai fondi dei giochi del Mediterraneo farà diventare il Via del Mare uno stadio più bello e più funzionale ma non solo perché sempre il numero uno giallorosso ha condiviso il sogno non irrealizzabile di dotare lo stadio di una copertura che consenta agli spettatori di essere protetti in caso di pioggia sogni e progetti che però non distraggono tutto l'ambiente dall'obiettivo principe che è quello del risultato sportivo un risultato che ormai ha portata di mano ma non ancora afferrato eppure domenica col Cagliari la salvezza potrebbe già essere benedetta dalla matematica già perché il calendario delle ultime quattro giornate come raccontato dal presidente del collegio sindacale dell'Unione Sportiva Lecce Giuseppe Tamborrino ospite dell'ultima puntata di Ora Lecce è un mini torneo tra le concorrenti alla permanenza noi abbiamo la tranquillità di chi in questo momento può contare su un vantaggio cospicuo sulla terz'ultima e anche sulle altre squadre come Empoli Frosinone che tra l'altro daranno vita a un mini torneo nella fase finale del campionato per gli scontri diretti Empoli Frosinone Udinese si scontreranno tutte fra loro e si toglieranno punti tra loro e noi da calcoli fatti abbiamo visto che un'eventuale vittoria a Cagliari renderebbe la salvezza aritmetica e Nicola Canonico è pronto a lasciare il Foggia il nostro servizio sembra che questa volta sia davvero calando il sipario sull'esperienza di Nicola Canonico alla guida del Foggia Calcio l'attuale patron rosso-nero sempre meno presente in Capitanata negli ultimi mesi sta per prendere una decisione lunedì 6 maggio potrebbe tenersi una conferenza stampa per chiarire la situazione non ha voluto anticipare altro l'imprenditore barese da noi interpellato nelle scorse ore con tono fermo e deciso Canonico ha detto che in quella sede davanti a tutta la stampa renderanno note le sue intenzioni le vicende calcistiche potrebbero centrare relativamente il Foggia come noto non parteciperà ai play-off e la trasferta contro il Monterosi è stata l'ultima della stagione una stagione senza grandi sussulti il presidente rosso-nero avrebbe già allertato le istituzioni probabilmente con l'intenzione di avviare una macchina organizzativa per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C mancherebbero le condizioni per continuare a fare calcio a Foggia in primis per un ambiente ormai ostile nei suoi confronti più volte in passato si è parlato di un'eventuale separazione tra Canonico e Foggia ma questa volta sembra ci siano motivi personali importanti a far pendere la bilancia verso l'addio lunedì prossimo dunque potrebbe essere la data dell'annuncio siamo in chiusura ora le ultime novità in casa della società del Brindisi archiviato definitivamente il calcio giocato in casa Brindisi il 100% delle attenzioni sono puntate sul futuro diversi nodi da sciogliere in primis quello che riguarda la cessione del titolo di Serie D ad un'altra proprietà nelle ultime ore pare abbia avuto un'accelerata la trattativa imbastita qualche settimana fa dal vicepresidente Damiano Pozzessere trattativa che vedrebbe l'interessamento di due imprenditori romani un imprenditore ionico e due brindisini non si conoscono ancora i loro nomi eccetto proprio quello del vicepresidente Pozzessere che potrebbe essere affiancato da un altro brindisino che in passato ha rivestito un ruolo nel calcio in Riva L'Adriatico non solo pare che la proprietà nei giorni scorsi abbia incontrato nella capitale gli imprenditori interessati con documenti alla mano inlerenti alla situazione debitore del club certo tutte voci da confermare ma se così fosse ci sarebbe un ulteriore spiraglio per la salvezza del brindisi oltre a quello di cui si è già parlato che fa capo all'imprenditore tedesco Peter Dolick anche lui nei prossimi giorni dovrebbe risedersi in città al tavolo della trattativa intanto il brindisi è chiamato a corrispondere ancora a denaro questa volta a causa della procedura di messa in mora azionata anche da parte di qualche giocatore che ha militato in biancazzurro la scorsa stagione si tratta di Luca Di Modugno e Rossi 1100 euro sono i soldi da versare a Di Modugno 2000 euro invece per Marco Rossi è tutto anche per questa edizione vi auguro ancora buona festa del primo maggio e buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti